L'Italia va avanti, le cose che dicevamo di bello, non è cambiato niente perché siamo tra i migliori quattro, è cambiato tanto perché ci arriviamo, però questa è una bella Italia che migliora giorno dopo giorno e batte la Francia soprattutto. Finalmente, non abbiamo fatto niente, diciamo che qualcosina abbiamo fatto, chiaramente ancora siamo in corsa. Io sono felice chiaramente per il fatto di andare a giocarmi ancora una volta con questa squadra, le medaglie, perché da quando abbiamo iniziato stiamo giocando per le medaglie, questo bisogna dirlo, ma sono contento perché oggi era un momento anche di miglioramento della nostra squadra, capire un po' se abbiamo usato bene le due sconfitte a Bologna e il nostro lavoro che abbiamo fatto. Contro l'avversario probabilmente più complicato che si poteva incontrare, quindi diciamo io sono contento per queste risposte, poi chiaramente perché abbiamo vinto, è stata una partita bella, tesa e devo dire che con un pochino anche di attenzione potevamo anche vincere i set che abbiamo perso, però insomma davanti abbiamo avuto sempre una squadra che insomma la conoscete, quindi dai, sono contento, adesso recuperiamo bene e vediamo di fare passi sempre avanti. Questa squadra, questi ragazzi sono da questo punto di vista eccezionali perché hanno una capacità, non solo il talento, ma hanno una capacità insieme di cercare miglioramenti che la fanno diventare una squadra difficile da affrontare. No Italia, la bella Italia e i ragazzi di Fefe, siamo tra le migliori quattro. Ebbè, beccatevi questo, vabbè ma ancora c'è da fare, adesso c'è da fare.